Ciao a tutti e bentornati! Allora, da dove cominciamo? Cominciamo dal lungo video di decluttering che ci ha proposto chi? Il nostro fiorellino milanese. 33 minuti di questo lo tengo perché è puccioso, quest'altro lo tengo perché non l'ho mai aperto, questo lo tengo perché è carino e quindi per farla breve ha buttato via solo un balsamo per le labbra e qualche ombretto essence, in pratica ha tenuto tutto. Poi sempre della coppia milanese abbiamo un vlog che funge da spartiacque tra cosa? Tra quella che era la peccaminosa a livello alimentare e sedentaria vita prima del diabete e lo stile di vita odierno. Fatto di alimentazione sana, sport estremi, esercizio spirituale e fisico e non a caso si sono recati da Decathlon che altro non è che il Tempio dello Sportivo. Bene, andiamo più nel dettaglio. Il tutto inizia dal parcheggio del Decathlon di Rozzano. I nostri due assi dello sport si sono recati lì per informarsi sui costi di attrezzature sportive tipo ciclette, tapirulan, ellittica, paracadute, corde d'arrampicata, windsurf. Appena entrati lì per marcare il territorio lei si fa un balletto e poi parte la lunga passeggiata tra i vari reparti. Ci sono scarponcini da neve, maglie da calcio, corde d'arrampicata che Davide vede utili da usare nel caso hanno poca spesa e la fanno tirare su con la gorda da Luciana. E nel frattempo siamo anche arrivati nel reparto dei tapirulan. Qui ce ne sono di varie fasce prezzo tipo da 500, da 600, da 700. E quindi loro chiedono al commesso se ce n'è di qualche tipo meno ingombrante e soprattutto meno costoso. E la risposta è sì, ce ne sono due da 500 euro, di tipo decisamente più essenziale. Nel frattempo che Chiara chiede al commesso info più dettagliate tipo ma per metter su un fisichetto tipo Elodie mi consiglia il tapirulan o la ciclette. Davide si porta avanti col lavoro e doveva va a dare un'occhiata alle ciclette. Ne ha adocchiata qualcuna ma non è convintissimo. Mi sembra più propenso all'acquisto di un tappetino su cui fare gli addominali. Beh, viene da pensare che non hanno intenzione di investire grosse somme per il fitness. Ma continuiamo questo peregrinare sportivo. Davide ci porta a vedere i pesetti da un chilo, i sacchi da box e finalmente ritorna Chiara e insieme provano l'ellittica. Un po' di fiatone ma tutto sommato 5 minuti hanno resistito. Le ciclette esposte non soddisfano Chiara che le trova esteticamente molto brutte e poi arrivano alla conclusione che dato il costo di ogni singolo attrezzo quasi quasi conviene di più iscriversi entrambi in palestra. E non poteva mancare il feedback negativo per il negozio che a detta di Chiara ha una varietà di prodotti molto molto ma molto scarsa. E si conclude così il loro vlog sportivo. Bene, di domenica tanti youtuber, a meno che non abbiano pre-registrato, tendono a snobbare youtube e dedicare tempo alla famiglia, agli amici, alle gite fuori porta, allo sport, ma non tutti. Quelli più sfaccendati timbrano il cartellino anche di domenica tipo chi? Tipo la dama che alle nove di domenica mattina era già in live con il suo argomento preferito, spiare e criticare la VIP milanese. Annuncia una live breve perché ha tanto da fare ma poi ci sta quasi un'ora e mezza in streaming. Invidia galoppante che maschera con risate fintissime e poi al solito mi hanno mandato lo screen, mi hanno raccontato, io non guardo i loro contenuti, poi succede qualcosa di strano, di molto molto strano. Perché mentre blatera in live urla a Calogero dove sei Calogero? E lui risponde, in bagno. E lei, un'altra volta? E lui, è la prima volta? E lei, ah. Passa qualche minuto ma lei ritorna a chiamarlo. Calogero, sei ancora lì? E lui, sì. E lei, che stai facendo? E lui, mi sto lavando le mani? E lei, ah ok. Cioè ora va bene tutto ma vi pare normale che quest'uomo deve andare al bagno col cronometro? Sincerata delle manovre igieniche sanitarie di Calogero, torna ad occuparsi di Chiara e del fatto che ha i cosmetici nel cassetto dell'armadio. Ora, non per dire, ma detto da una che postò la foto del tecnico seduto nel salone con alle spalle uno stendino appoggiato alla cristalliera e un pozzetto raccattato chissà dove. Che è tutto dire, però le fa specie avere i cosmetici nei cassetti in camera, ok? Poi un'altra cosa che stupisce la sorianese è il disordine e anche qui tiratina di orecchie. Perché un paio di giorni fa la Medium ha postato la foto dei suoi undici gatti che mangiavano da due piattini posti sul pavimento. Un pavimento che appariva decisamente poco pulito. Pertanto non si può essere accomodanti con le proprie pecche e puntare il dito verso gli altri. Bisognerebbe, prima di criticare gli altri, guardare in casa propria. E poi sai quante live in meno? Poi continua con le sue analisi strampalate, basate sul nulla e sui consigli che a quanto pare lei stessa non segue. La live continua così ancora per un bel po', ma a me onestamente mi sono cadute sul pavimento. Giusto il tempo di raccoglierle e cambiamo personaggio. Di chi parliamo? Parliamo di Senz'Anima, che a seguito dello scandalo Chat Gate ha aperto una live dove inizialmente ha riassunto la faccenda e poi ha detto che secondo lei quella chat è falsa. Perché in quei messaggi non riconosce il modo di scrivere di Luciana, probabilmente le hanno teso un tranello. E lei c'è cascata con tutte e due le scarpe. La teoria di Senz'Anima è che la chat sia stata creata ad hoc e poi sono stati aggiunti i due messaggi vocali di chi? Di Luciana, per rendere più credibile la cosa. Che poi altro non è che la teoria che avevo espresso pure io, però c'è da dire che alcuni utenti hanno immaginato che tutto questo sia stato architettato da Chiara stessa, perché? Per mettere in scena un qualcosa capace di attirare l'attenzione, dato che a gennaio YouTube paga poco. Bene, il riassuntone di oggi si conclude qui, anche perché oggi gli hanno dato di brutto. Ci sono state live da parte di Chiara, da parte da Adama, da parte di Senz'Anima, da parte di Davide contro la cerchiettata alias Senz'Anima. E di tutto quello che è successo non posso fare spoiler, posso dire solamente che la Chiara oggi ha annunciato che ha fatto cadere ben due canali, mentre un terzo è in bilico. Bene, ho detto anche troppo. Adesso vi saluto, vi auguro buona continuazione di serata e vi do appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto, ma nel frattempo che succede tutto questo, un bacio a tutti da Gossip. Grazie. 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 Grazie.